Sveglia, sveglia amico mio, sta nascendo un nuovo giorno e hai molte cose da fare. Io ti guiderò e ti insegnerò mentre tu mi lavorerai facendo pratica. Ricordati sempre, io sono non soltanto la tua guida e il tuo mentore. Pensa a me come alla persona in cui hai più fiducia. Ciò che imparerai oggi ti sarà non soltanto utile ma addirittura fondamentale per svolgere le missioni che ho scelto per te. Vedi, tu sei stato scelto con molta attenzione. Hai un'importanza speciale per me. Impari in fretta amico mio. Lo sapevo. Ora vai e trova alcuni vestiti da indossare. Eccellente! È giunto il momento di muoversi amico mio. Vai alla porta e procediamo alla prossima lezione. Stai andando molto bene. Il tuo prossimo compito è entrare nella porta successiva. Ora andiamo avanti amico mio. Raggiungi la porta, aprila e proseguiamo con la prossima lezione. Bene, come puoi vedere, le cose si... Vedi? Non è stato così difficile, vero? Stai andando molto bene, amico mio. Ora continua con il tuo prossimo esercizio. Non è stato così difficile, non è stato così difficile, non è stato così difficile. Non è stato così difficile, non è stato così difficile. molto bene. Stai andando molto bene. Ora prendi l'ascensore e passiamo alla prossima lezione. Stai andando. Stai andando. Stai andando. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, scelta per un combattimento ravvicinato, pratico e silenzioso, quando non ci si vuole far scoprire. Le lame sono di stile tradizionale, acciaio inossidabile a 440C, ad alto tenore di carbonio. Ora vediamo come te la cari in questa disciplina. Vedi il manichino laggiù? È tutto tuo. Niente male. Presto imparerai bene come si fa. Ora prova un attacco frontale. Eccellente! 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 Amico mio, è il momento di proseguire. Via con il prossimo punto. Amico mio, amico mio, amico mio, amico mio, amico mio, amico mio, amico mio. È il momento di proseguire. Via con il prossimo punto. La corda di pianoforte! La scelta di un vero professionista. Ora vediamo di usarla a dovere. Provala su quel manichino. Niente male. Presto imparerai bene come si fa. Amico mio, è il momento di proseguire. Via con il prossimo punto. Sei un ottimo allievo. È un piacere vederti al lavoro. A questa velocità, presto avrai sviluppato al massimo le tue capacità. Sono impressionato dal tuo impegno e dai tuoi risultati. Continua così e non sarai secondo nessuno. Ora, va al tavolo e scegli la tua arma. Eccellente! Un'AMTR banner. Una notevole versione in acciaio inossidabile della Colt Government 1911A. Grazie ai sette colpi 0,45 ACP che contiene, e un pacchetto offensivo molto potente. Bene, ora tocca all'esercizio. Oh, una scelta davvero ottima. Una compagna robusta e rumorosa che ti farà avere l'ultima parola in molte discussioni. Il calibro è di 0,50 ACP e i caricatori tengono sette proiettili. Si tratta di un'arma a segna automatica con canna da 6 pollici, dimensioni 15,9 cm x 32 mm, peso 1897 grammi, mirino, un mille e tre punti completamente irregolabile. E' un'arma rumorosa, dunque non usarla quando c'è bisogno di fare un lavoretto pulito. Ora prova a caricarla. Bene, un'ottima pistola a segna automatica da 9 mm. Questo modello viene usato dai militari e dalle forze di polizia di tutto il mondo. Il caricatore contiene 15 colpi. Ora caricala. Ora approviamo, eh? E stai attento al rinculo. Inutile dire che non è un giocattolo. Un'ottima pratica Sei un ottimo soggetto. Il tuo rendimento è notevole e devo dire che sono impressionato. Anche se riponevo grandi speranze in te fin dall'inizio, ora l'addestramento diventa molto più raffinato. In questo formato incontrerai sia amici sia nemici. Il tuo obiettivo qui è distinguerli mentre ti fai strada in questo labirinto armato non solo con una petraglietta. Puoi far pratica sparando solo colpi singoli, così come raffiche controllate di tre in quattro colpi. Ora raccogli l'arma e caricala. E ricorda, non si usa più una mano sola, non tentare di nasconderla e scordati l'ordine con queste spargi sangue. Bene, ora attraversa questa città. Il rosso è per i cattivi. Una scelta da intenditori. Quando un esercito agguerrito come quello israeliano ci scommette sopra la sua reputazione, puoi star certo che è un'arma di qualità. Eccellente! Un oggetto molto persuasivo. Se il titolo di Spacca Tutto facesse vendere un'arma, sicuramente apparirebbe sulla sua confezione. Proiettili da 9 mm in serbatoi scalati. Capacità 15 o 30 colpi. Funzionamento scarellante. Curata chiusa con perno di fuoco mobile. Cadenza di fuoco 900 colpi minuto. Lunghezza 60 cm. Peso 2,78 kg carico. Mirino posteriore regolabile per le correzioni di calibro. Mirino anteriore mobile in elevazione. Prova a usarla! Aff... Siga... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Soltanto i migliori in assoluto raggiungono questo livello. Quelli precedenti ti sembreranno rozzi e puerili rispetto alle complesse e raffinate tattiche di cui avrai bisogno a questo punto. Questi fucili di precisione, lavorati con la massima cura, sono facili da nascondere. Possono essere smontati e rimontati in pochi minuti grazie a un sistema di incastri. In questo speciale poligono di tiro sperimenterai condizioni molto simili a quelle che dovrai affrontare una volta terminato il tuo addestramento qui. Qui si provano lezioni a tiro singolo, premi, precise e incisive. Ora avvicinati al tavolo, prendi un'arma per fare pratica e controlla come si carica e si monta. Con questo economico shotgun a pompa si spara a colpo sicuro fino a 500 metri. Se preferisci un mirino aperto regolabile, il Monte Carlo consente una regolazione rapida. Hai preso un'arma classica, grande favorita delle fazioni belligeranti di tutto il mondo. Quell'arma è stata sviluppata per l'affanteria motorizzata russa e adottata dall'esercito sovietico nel 1949. È stata battezzata AK-47 in onore del suo inventore Kalashnikov e dell'anno in cui la concepì. Si tratta di un fucile d'assalto molto semplice e robusto, senza fronzoli e dalla grande potenza. Specifiche tecniche. Calibro 7,62x39. Capienza colpi 30. Portata ideale fino a 1500 metri. 600 colpi al minuto. Velocità di bocca 715 minuti secondo. Funzionamento a recupero di gas. Lunghezza 870 mm. Peso 4876 grammi con caricatore inserito. Mirino posteriore regolabile per ricorrezioni di calibro. Mirino anteriore mobile in elevazione. Grazie alla sua eccezionale precisione a grande distanza, il fucile tattico R-93 copre una vasta gamma di applicazioni. In questo caso, l'impiego semplice e agile costituisce un indispensabile fattore di sicurezza. Quest'arma ben progettata permette ai tiratori scelti di eserciare tutta la loro abilità e di essere intrafidabile in ogni situazione concepibile. Grazie. 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 Sì. 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 Così, questa è Hong Kong. La gente ne parla come di un posto interessante. Piena di misteri, allegria ed eccitazione, dicono.